Grazie Grazie E la busta del mio cuore, fuori legge, mi condusse a Berlino dove mi unì alla Triade Per cinque interminabili minuti non accadde nulla Infine il cacciatore prese la mira Due volte Il primo proiettile spezzò il femore destro del ragazzo, il secondo frantumò il sinistro. Il giovane gridò ancora più forte. I caprioli hanno più dignità, commentò il cacciatore infastidito e sparò per zittirlo. Grazie per la visione! Grazie a tutti!